Daniele, Gianluca Picella, Magazine Pragma, chi ti ha convinto a sposare i colori gialloblè della Juve Stabia? Non ho avuto bisogno di convinzioni, Castellammare è una piazza importante, calda, quindi non ho esitato, la chiamata del direttore sportivo, nel giro di pochissimo tempo abbiamo trovato subito l'accordo. Natale Giusti, Vivi Centro, benvenuto alla Juve Stabia, ti chiedo con quale modulo tattico ti esprimi al meglio a centrocampo e cosa ti ha spinto ad accettare la proposta? Come ho detto prima, la voglia di rimettermi in gioco e di giocare in una piazza calda, quindi ho accettato per questo Castellammare e per quanto riguarda il modulo ho giocato sia in centrocampo a tre che a due, mezzala in un centrocampo a tre e mediano in un centrocampo a due. Francesco Sabatino, Metropolis, che gruppo hai trovato e quali sono i tuoi obiettivi? Ho trovato un gruppo di ragazzi disponibili, un gruppo unito, che ha tanta voglia di fare e di mettersi in gioco e questa credo sia la cosa più importante per raggiungere obiettivi. Con chi hai legato di più dal tuo arrivo? Ho legato con tutti, non c'è stato qualcuno in particolare, mi sono trovato benissimo da subito con tutti. Com'è stato il primo approccio con Mr. Novellino? È stato positivo, ho trovato una persona molto carica e disponibile che ci insegna ogni giorno qualcosa di quello che pensa calcisticamente e niente, ripeto, siamo tutti a disposizione, non vediamo l'ora di iniziare. Da questa stagione cosa ti aspetti? Spero sia una stagione positiva per tutti, sia a livello di squadra che a livello personale e punteremo ad arrivare più in alto possibile. Grazie.